O non vengono un minuto, meglio e maggiore se tu metti di essi e quindi si truppi con le decisioni. Ancora, adesso avrai la battaglia, vai! Perfetto, 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 perfetto. Avrai, avrai un po' di grigio perché aveva un po' di grigio, un po' di grigio. Adesso vedo io e quindi posto e accetto. Quindi non c'è bisogno di usare la battaglia per stabilire se taglia prima lui o prima lui, o se giocano con lui. Ci sono bisogno di venire, comprendere e riacciare. Questo è l'orientativo che mi accompagna da 20 dettagli. Mi ringrazio. Grazie. 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 i ragazzi perché sono loro che giocano e lasciare a loro la capacità di inventare e di creare il gioco perché altrimenti ci contraddiciamo tutti quanti prima o poi diciamo eh ma non ci sono più i campetti all'aperto eh non ci sono più i ragazzi e i nostri ragazzi non hanno più la fantasia le robe eccetera eccetera allora è vero che non ci sono più i campi all'aperto da noi no e per fortuna che ci sono le palestre perché il fatto che ci siano le palestre magari dove prima c'è un campo all'aperto è una fortuna perché vuol dire questo punto l'anno è una fortuna quindi noi diciamo il quale è che quando vengono in palestra e ci siamo noi ma possiamo pretendere nei sondaggi perché se è vero che noi i ragazzi stanno a concludere e non vanno agli occhi allora bisogna che noi riconosciamo delle situazioni simili che non vuol dire chi mi conosce lo sa che non vuol dire pala 2 giocare a cazzo divertiateci no 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 vuol dire rispettare la palestra il risalamento le luci impegnarsi e cercare di migliorare però il gioco te lo do fino a una certa io vi ho detto chiaramente fino a quando questo secondo me è una cosa importante perché altrimenti diciamo che non ci sono i tappeti e poi non vuol dire allora come gli è il piano questo è probabilmente una cosa che io vi volevo dire vi ringrazio tantissimo per l'attenzione spero i grandi successi di personali individuali di squadra e vi auguro di trovare sempre la chiave per parlare ai vostri ragazzi